L'Università Telematica della D'Annunzio, almeno per come era concepita, fa già parte del passato. Resta ora solo l'impegno a recuperare tutto il mal tolto. Le precisazioni della magnifico rettora dell'Università D'Annunzio Sergio Caputi e della Presidente della Fondazione Uda, il Professor Luigi Capasso, all'indomani dello scandalo giudiziario che ha coinvolto l'Università Telematica Leonardo da Vinci con l'arresto di 5 persone e l'iscrizione sul registro degli indagati di altre 13 per reati e vario titolo che vanno dal peculato, al riciclaggio, all'autoriciclaggio, all'abuso d'ufficio. Una delle 11 università telematiche presenti in Italia, doveva essere il fiore all'occhiello del principale Ateneo Abruzzese, si è trasformato in una gestione, stando alle carte dell'inchiesta per cura di Chieti e a dir poco Allegra, culminata con un bando grazie al quale il 51% stava per finire nelle mani di una fantomatica società non profit slovacca, bando annullato in autotutela appena si sono insediati il nuovo rettore, il presidente della fondazione Caputi e Capasso. Questo sotto il profilo giudiziario, ma c'è poi il complicato processo di ristrutturazione che la nuova governance dell'Ateneo ha imposto affidando alla KMG l'incarico di valutare il quadro economico dal quale emerge un passivo di 1.850.000 euro, costituito quasi esclusivamente da spese senza pezze d'appoggio, da cui l'esigenza di recuperare le somme indebitamente spese e la decisione quasi automatica di costituirsi parte civile nel processo penale che si andrà ad aprire da qui a qualche mese. Le segnalazioni erano partite già da una guerra interna che si era svolta all'interno della Università Telematica Leonardo da Vinci fra le varie anime di questo partner straniero che aveva acquisito il 51% della proprietà, quindi erano partite già da prima che cominciasse poi il nostro intervento e la nostra gestione. L'Università si è già mossa abbastanza come risanamento della Università Telematica, sono stati nominati nuovi organismi dirigenziali della Università Telematica, quindi avrà due obiettivi, uno il risanamento dei conti con la conseguente azione legale verso chi ha determinato una gestione piuttosto inconsueta, devo dire. Dall'altro il piano di rilancio dell'Università sul quale già stavamo lavorando e che prevederà assolutamente un rilancio di molti corsi di laurea nuovi e soprattutto del post laurea e dei corsi ECM per le aziende e quant'altro possa fare l'Università Telematica. La stiamo dotando di una nuova sede, di nuovo personale e di nuove attrezzature per poter svolgere meglio il rilancio della telematica in questo momento.